A quasi cent'anni dall'entrata in guerra, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, sezione di Fanno, allestirà una mostra nel prossimo mese di agosto dedicata agli aspetti navali che hanno caratterizzato il periodo. L'iniziativa d'ingresso gratuito sarà incentrata sugli eventi che si sono svolti sul fronte italiano e in particolare sul ruolo della Marina Militare, che ha impedito i rifornimenti agli avversari, consentendo quindi al Paese stesso di ricevere quelli di cui aveva bisogno. Nei fine settimana di agosto verranno organizzate inoltre quattro conferenze aperte alla cittadinanza, con lo scopo di focalizzare il fenomeno da diversi punti di vista, tra i relatori l'ammiraglio Pio Bracco che lancia un appello alla popolazione. Stiamo alla ricerca spasmodica di qualsiasi reperto, quindi invito tutti se hanno qualcosa, qualche baule, medaglie, lettere, cartoline, qualsiasi cosa, perché la Prima Guerra Mondiale è stato il primo esempio di reazione collettiva per un evento nazionale. Proprio uno di questi oggetti ha fatto scatturire l'idea di questa mostra. Esatto, un nostro associato andando a Roma al Vittoriale ha visto nel Sacrario delle Bandiere il cofano di una bandiera data dalle donne di Fano al secondo treno armato che faceva parte del dispositivo di difesa costiera nella Prima Guerra Mondiale. L'ANMI inoltre vorrebbe consegnare un riconoscimento ai familiari di Galliano Furlani, un marinaio fanese che partecipò all'impresa nota come la beffa di Buccari. Lui faceva parte dell'equipaggio del MAS numero 95. Stiamo cercando di recuperare gli eredi, perché penso che ormai il signor Galliano non faccia più parte della nostra comunità e perché abbiamo intenzione di offrire il giorno dell'inaugurazione e dell'apertura della mostra una targa commemorativa per appunto testimoniare la vicinanza al di là degli anni che sono passati tra l'associazione e chi ha servito con onore il nostro Paese.